Siamo con Salvino Giunta di Banca Mediolanum, sponsor del Missilmeri. Allora, cosa si prova oggi, vista anche la crisi economica, per poter aderire a un progetto importante come quello del Missilmeri, ma con costi? Per me è una grande emozione, perché essendo sul territorio da circa 20 anni, mi è stata offerta la possibilità di poter sponsorizzare il Missilmeri nella squadra del Don Carlo. Per me è stato un grande onore, l'ho fatto veramente con un grande slancio emotivo, perché il Missilmeri è una città che dal punto di vista sportivo è sempre cresciuta. Pertanto, io mi sono sentito, ormai circa, come dicevo, da 20 anni, quasi adottato dalla città di Missilmeri e per poter esternare questo mio attaccamento a questa cittadina, l'ho voluto fare attraverso la sponsorizzazione di una squadra di eccellenza come il Missilmeri Calcio della Don Carlo. Una grande squadra è un grande sponsor, o un grande sponsor è una grande squadra, no? Questo binomio dove ci potrà portare? Ma noi, Banca Mediolanum, siamo presenti come sponsor in grandi eventi sportivi, come molti sanno, perché noi sponsorizziamo da ben 14 anni il Giro ciclistico, il Giro d'Italia, abbiamo sponsorizzato alcuni sempre grandi eventi sportivi, per cui anche con il Missilmeri mi ritrava uno sponsor con un brand importante come Banca Mediolanum, perché il Missilmeri è una città dove c'è molto fermento sportivo, per cui accanto a una città con un grande fermento sportivo ci vuole una banca dinamica che abbia un brand di una certa importanza. In bocca al lù. Grazie.